forse possiamo fare comunque un giro anche in dopo scuola proviamo a vedere se ci fa scendere biblioteca vediamo ok ma io prendo un libro dobbiamo restituire il tuo coraggio il fascino è lì per passare però ovviamente non puoi farlo più dov'è che ha detto che è sottopasso o il centro il commerciale non mi ricordo parlo di anne ah c'è lui anche oggi andiamo ne metà verso vero? sei sicuro che possiamo prenderci con tutta questa calma avvisami quando hai deciso la nostra madarana è stata incredibile quando sono uscita mi sentivo così fiero di essere giapponese ma allora eri tu quella che ho visto in tv durante il notiziario? oddio su serio? non ne avevo idea che simpa mi sa che è giù al centro commerciale è un palo di stazione comunque fai così facciamo prima io sono al centro commerciale ok sì era lì probabilmente al stesso posto infatti ok oh Atom cosa pensi fare oggi? usciamo insieme siamo sicuri di uscire con lei? c'è riuscito anche con Yusuke ma non c'è a quanto pare come possibilità per sicuro non abbiamo nemmeno trovato il tesoro quanto manca? nove giorni? cos'è che manca? ah sì ok andiamo a qualche parte non penso che il mio legame con Anne si rafforzerà per ora non so oppure lavoriamo oppure che famo che famo c'era anche il fioraio qua vedete cosa c'è andrà a dire sai chi è? mi incuriosisce da quando l'ho visto in tv certo che lo so un suo allievo è il mio compagno di scuola come? davvero? wow che tipo di persona è? chi lo sa? è uno studiato d'arte dicono che sia molto eccentrico ma cosa che vende? vediamo a collana magnetica guarigione rapida prendiamolo spezzano la mira mi ritorno 100kp a 1 ok andiamo non ce ne sono massimo 3 altrezze bodybuilding non è che magari questo si può dare a Ryuji per carità non è che ci voglio provare a provare a provare a Ryuji però prendiamole non so Jack tu hai idea di cosa potremmo fare vediamo cosa fanno hanno fatto gli altri ma compagnia di Han compagnia di Takemi di Ryuji bucato sfida il panino tecnicamente siamo ancora in tempo di entrare direttamente nel ma se no entriamo dentro 10 giorni di tempo ce n'è i soldi un po' ce l'abbiamo cosa adesso vediamo un attimo allora confidenti rango 3 con Igor 2 2 Han è già a 3 Ryuji è già a 3 il medico è a 2 e il medico non serve male beh questo potremmo tirar su lui tra l'altro è della morte quello che abbiamo creato ah è con Takemi no 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 è Takemi non ho confuso con Maruki e qua ci fa vedere cosa fa prossima abilità è sterilizzazione e cosa fa aggiungi nuovi oggetti oggetti curativi però ok in effetti da qua possiamo vedere anche le situazioni qua ci avremo scatto furtivo è più difficile individuarti quando usi lo scatto Mishima ardor di Mishima aumenta i punti di esperienza guadagnati dalle riserve ah era Mishima che faceva questa roba allora cos'è che faceva Maruki ah chance di rispistinare i stamina point quando scrasseggiano chance misteriosa quantità riserva super questo è anche importante ma con lui sale solo probabilmente in base alla storia chance di proseguire l'attacco se il colpo di gioco non abbatte nemico a rango 3 puoi preparare un curry che ripristina leggermente sp di tutti gli alleati eh non è male per andare su con lui boh facendo caffè tecnica sexy chance di catturare l'attenzione nemico e annullare la sua azione lo ammalliamo però non è più nemmeno come abbiamo visto allora io di qua sembra che il più interessante Mishima ma come si fa andare da Mishima mi sa che Mishima è un po' come Igor cioè possiamo andare solo quando quando vuole lui anche perché sono dove che dove che Mishima forse in central street l'abbiamo trovato ancora lì mi sembra comunque qua non ci dice non ci dice in realtà a che punto siamo ma secondo me Mishima ripeto è legato a un discorso di progresso della storia Igor la stessa cosa da quanto sembra quindi non puoi fare quello che vuoi tu per esempio anche Morgana non puoi uscire con Morgana è sempre con noi tra l'altro quindi direi che forse è il discorso di fare i confidenti in questo momento non mi sembra tutta di questa utilità i lavori cosa che facevano mangiano il burger che era il coraggio quello lì cosa che faceva se non mi ricordo più boh cominciamo così ok vediamo cosa dice migliorare la gentilezza devo pensare tra l'altro in teoria lo vediamo dal calendario è l'auro di urno la flessia o il triple seven il triple seven è la perizia forse mi rafflesia è questo mi sembra no? questo deve essere la flessia e non se lo dice non lo chiama in nessun modo quindi triple seven o rafflesia triple seven diciamo perizza boh anche quello non mi sembra interessantissimo cioè a sto punto che fa non andiamo senza per l'uso per l'uso c'è che cosa vuoi fare? possiamo lavorare anche qua nel triple store no? lo chiama convenience store eh si triple serve anche adesso è un po che non ci veniamo quindi non mi ricordo niente dai io direi di andare confidenti lui fan perché siamo qua andiamo dentro il palazzo dai polline abbiamo già perso tempo anche se abbiamo ragionato un attimo abbiamo guardato un attimo quindi non è che non abbiamo fatto nulla io mi porterei i ruggi stavolta ok vogliamo ancora trovare in teoria l'altro seme no? era meglio fare un sabotaggio dov'è che era il seme? avevamo sentito il rumore mi sembra no? non era su questo piano ok ok vedo c'è un enemy E' la Deborah al fuoco, questa è Deborah al ghiaccio Facciamo agis, facciamo staffetta Ma non ce l'avevano, c'erano solo gioche però, e qui non abbiamo portato più Yusuke Ah, comunque ha esplosito Ah, adesso possiamo prendere in teoria questo Questa era una di quelle che dovevamo aprire, infatti Forse ne erano due da aprire Eh, adesso qui è un po' che non giochiamo Questa stanza lì giù cos'era? Non mi ricordo più No, è stesso, è stesso Ah, è stato attacca, no No, sembra che siamo perfino povera dimensionati Dobbiamo cambiare Vediamo se è lui Ha resistito Vediamo per avere il mamboffo Il fatto che siamo impauriti, cosa comporta Facilla Che non siamo riusciti a farlo Quanto è quattro? Già fai tu? Ah, fibbia di lato Ah, è la sala di controllo Ma dove diavolo era allora? Forse è un piano inferiore Qui c'era la cosa Se controllo e basta Che però in realtà ci servirebbe Allora, tornavamo nella È che non Davvero, forse devo riguardare i video Non mi ricordo più Qui c'era quella che era chiusa E facendo tutti i quadri No, mi ricordo davvero dove abbiamo sentito il seme La sala del tesoro Ah, c'era un'angela in rosso Vuol dire che non eravamo riusciti a vederla Allora, andiamo un attimo Eppure da questa Ah, sala principale Quindi non è sala del tesoro Sala principale Ok, ok, ok Ecco perché Sono due cose diverse E qua che si sente Ah, poi c'è questo discorso qua Però non lo fa Infatti c'è scritto là tra l'altro Cosa dobbiamo fare? Ispezione è la sala principale Qualcunque è la porta che si è vicina Ah, scusa Cioè, abbiamo vincito la roba Ehm, la la Ma frey Quanto ha aumentato Pulimpa? E cos'è la pulimpa? Facciamo questo? Non si sa Bloccato che c'è uno no Ah, scende quelle cose Ok Ha resistito Ah, sei uno stronzo Fisico? 154 Non sappiamo niente Nemmeno sul Ma lei non ha niente di questo Per cui non Abbiamo fisico Ah, quello Ok, ok Non si sa Non si sa E questo invece è fuoco forse È resistente al vento Ah, quel fuoco l'ha curata Guarda là Assorba, vedi? Quindi il danno che gli abbiamo fatto In realtà l'ha assorbito per curarsi Quelli sono tutti giù Eh, ci vorrebbe un bambufo Ci vorrebbe un bambufo Joker è elettrificato Ok Ok Facciamo Swan Atom ha saltato il turno Ok Ha attaccato e ha subito i danni Delle sere in fiamme Allora, purtroppo Non riusciamo a avere Fala sicura Ma fa niente Abbiamo eliminato almeno questo Questo mi ha detto che era Non si sa Non si sa sull'elettricità Non si sa sullo psichico E tutto il resto Eh, non è l'agio di Di vento Di gruppo Aia È la prima volta Che succede Secondo giù Secondo giù Joker È la prima volta Che ci succede Per sua vita Trovate la risfatta Su il tuo nome suonirà Ok Per essere dunque In compiuta L'infondata caluna Su il tuo nome Si farà realtà Adesso Il gioco è finito Quella lì Bisogna farla fuori Subito Però Non siamo sempre Lì il gelo lo fa Oppure bisogna portarci L'altro Vuoi prendere una partita Sì Ritorno al momento Dell'ingresso Una safe room Conseverai solamente Il denaro E il punto di esperienza Ebbene Niente E qual sarebbe il problema Ok siamo qua Allora Tanto Non ha consumato più di tanto Dunque facciamo un salvataggio Quindi là ci sono due gruppi di persone Nessun show No aspetta No aspetta Ho appena finito di dirlo Portiamo Portiamo No come si fa Cambiare il team Non si può da qua Come si fa Non si può cambiare il team Da qua Scusa Beh non dimmi Che dobbiamo tornare da qua E star qui Andare un'entrata nel museo Ma che stupidata E Cioè Alcune cose sono veramente Ma che La sala principale. Quella è porta e deve essere vicino. L'alerta è alta. Da quello che ci ha visto. Ok, sei proprio lei. Che dicevamo... Ma in realtà non sappiamo... No, il problema è che non sappiamo anche se per esempio era debole. Curiamo il nucleare dopo, per esempio. Però bisogna farla fuori la svelta questa perché c'è... Guarda, buffo ma è singolo. Facciamo le fiamme su di loro, però adesso eliminiamo prima lei, assolutamente. Ok, adesso ci sono i maraggi. Ci sono altre informazioni. E' resistente al vento. Non sappiamo niente... Sul resto. Ah, di tutti i nemici. Sarà davvero così? Precisione e l'illusione. Cavolo. Hanno aumentato l'illusione, vediamo. Ok, comunque abbiamo dei maraggi. Ok, qualcuno non è morto. Però è tecnico. Vabbè, entrare io, comunque. Facciamo la staffetta. Mi uso a saltare, comunque c'è... Non m'è un indicato. Qua. Qua. Sì quà? No. Si non. Non rimani.